attimo solo. A posto. Buongiorno, ben ritrovati, seduta ordinaria del diciannove maggio duemilaventuno alle dici e trentaquattro, primo appello, invito la signora Mecce a procedere, grazie. Buongiorno. Aresu. Assente. Cannella. Assente. Limuli. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Assente. Pernice. Assente. Sino. Assente. Susinno. Assente. Tumbarello. Assente. Valenti. Assente. Solo lei. Spostata l'assenza del nomorale, il presidente chiude la seduta e la rinvia alle undici e trentacinti. A dopo. Ok, a dopo.